Sì, siamo partiti dai dati. Nel 2018, al primo gennaio del 2018, in Abruzzo si registravano 101.000 ultraottantenni a fronte dei 47.000 del 1991, ultracentenari al 2018, 418 a fronte dei 90 del 1991. Quindi c'è un problema serio. La popolazione invecchia maggiormente in Abruzzo e abbiamo il dovere di intervenire con questa figura del garante, garante degli anziani, una figura, un'autorità indipendente di Regione Abruzzo che vada a tutelare a 360 gradi tutti i diritti degli anziani, diritto alla salute, diritti sociali, relazioni e soprattutto considerare l'anziano una risorsa per la trasmissione dei saperi alle nuove generazioni, non come un peso di cui disfarsene. Ecco, questa figura vuole quindi tutelare i diritti. Quante volte abbiamo sentito anziani lasciati soli o anziani abbandonati all'interno di strutture sanitarie lager? Ecco, lì può intervenire prepotentemente il garante segnalando i fatti dell'autorità giudiziaria ma prevenendo che accadano queste situazioni. Il garante interverrà per compilare delle domande, aiutare i cittadini ad accedere ai patronati, ai servizi sociali, ai servizi sanitari. E' la vera figura che manca perché anziani diventeremo tutti, problemi ce li avremo tutti. Quindi che Regione Abruzzo si faccia carico di questi problemi con la figura del garante alla quale si possono rivolgere non solo cittadini ma anche associazioni organizzate perché abbiamo tante associazioni a difesa degli anziani che purtroppo rimangono all'esterno delle istituzioni e il garante può essere il vero raccordo, il punto dove queste associazioni possono andare, segnalare i fatti e risolverli. Grazie 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 Grazie